Musica La compagnia delle opere ancora oggi sta facendo una giornata molto interessante, quindi si conferma il suo impegno, la sua partecipazione è sempre più ricca sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della dimensione delle aziende che stanno partecipando. Si conferma un luogo di riflessione, di sviluppo, di crescita. Creiamo dei momenti dove le miliardi di informazioni che ci sono diventano condivisi e diventano possibili conoscenze per far crescere competenze nuove. Tutte le volte che vengo al Sud sono stupito dell'immenso potenziale che c'è e delle tante eccellenze e spazi sul territorio. Proprio perché queste eccellenze ci sono bisogna metterle insieme, bisogna superare un certo individualismo e concorrare di più. Il nostro contributo è quello di creare opportunità di condivisione, di conoscenze perché ognuno possa far crescere almeno l'attività che sta svolgendo. E' impossibile pensare che un imprenditore oggi possa gestire da solo la sua impresa. ha assolutamente bisogno di confrontarsi, di ponderare le sue decisioni e di avere informazioni e conoscenze affidabili. Il metodo è sempre quello del confronto e del trasferimento di esperienza. Gli imprenditori e professionisti che si incontrano e si trasferiscono quelle che sono state le esperienze con cui le loro imprese sono cresciute. Per questo noi abbiamo organizzato dei momenti in cui ci sono esperienze raccontate dal vivo di imprenditori, cioè di imprese medie del territorio e a cui i piccoli imprenditori, professionisti e artigiani possono ispirarsi. Grazie!